Mi ha sorpreso il fatto di essere così ben strutturato durante tutto il percorso. Allora, io la prima cosa che ho pensato, dico 24 giorni, che faremo? Sì, ho capito, tutte tecniche, però... E invece no, sono serviti tutti, perché almeno personalmente sono serviti tutti. Proprio perché gli ultimi quattro giorni sono un po' più usciti, diciamo, fuori dal guscio, come dire. Quindi servivano. Quindi non sono sorpreso di questo, cioè, sono sorpreso positivamente. Ok, cosa ti porti a casa e perché consiglieresti questo corso, se lo consiglieresti? Allora, porto i libidi, porto a casa... No, scherzo. Mi porto a casa una bellissima esperienza. Ho conosciuto persone che già, ovviamente, stavano nel carpeggio Mugino. Non la mette esquisite, bravi ragazzi. E mi porto, faccio indietro, in questo corso, un bagaglio sia tecnico che di miglioramento psicologico, di personale con le persone, di atteggiamento con il prossimo proprio. Mi porto dietro tutto questo che è tanto lavoro e tanta roba. Grazie mille. Grazie mille.